Anticipazioni Beautiful, Ridge la fa finita, Thomas in lacrime, puntata intera del 13 febbraio 2024. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo un'anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. In una notte tempestosa a Los Angeles, Sheila ruba una macchina e parte a tutta velocità. Guida con determinazione attraverso la pioggia. Dopo un po' dice a se stessa che finalmente sta quasi arrivando. Nella casa sulla scogliera, Finn e Steffi si tengono abbracciati davanti al fuoco. Hanno la casa tutta per loro perché li ha Ayes e Kelly è con Liam. Finn nota che sta avvenendo una riunione importante alla Forrester. Steffi risponde che ha detto tutto quello che poteva dire a suo fratello ed è ora per Thomas di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Mentre beve del vino con Finn, Steffi rimane irremovibile nel sostenere che i suoi genitori sarebbero stati insieme se Thomas non avesse fatto il suo gesto. Finn è orgoglioso di Steffi per aver detto la verità. Ma lei dice che semplicemente non poteva permettere ai suoi genitori di costruire un futuro basato su delle bugie e che Ridge meritava di sapere che Brooke non lo aveva tradito. Steffi afferma inoltre che la decisione di Brooke e Taylor le ha dato potere su Ridge e sembra che ci sia aria di chiusura tra loro. In seguito, Finn accende candele in tutta la sala e, quando Steffi fa il suo ingresso in lingerie, lui dice, con un sorriso complice, che intende fare buon uso del loro tempo da soli. Dice di averne bisogno e che ha bisogno di lei. I due quindi si siedono sul divano e Steffi tocca la cicatrice di Finn chiedendogli se gli fa pensare a Sheila. Finn risponde che all'inizio sì, ma ormai è arrivato a notarla appena e non vuole pensare a Sheila a meno che non sia costretto. Afferma che quella notte si tratta solo di lui e Steffi e del loro amore. Mentre Steffi e Finn si baciano, Sheila, che è fuori sotto la pioggia, si avvicina alla loro casa con un impermeabile concappuccio. La malvagia donna abbassa l'interruttore dell'elettricità della casa e poi apre con forza la porta d'ingresso e si staglia minacciosamente sulla soglia e spavantata Steffi riconoscendola urla il suo nome. Alla Forrester, Eric e Ridge hanno riunito Brooke, Carter e Hop. Ridge dice che Steffi non aveva bisogno di essere lì perché aveva già raggiunto un accordo con lui e Eric. Dopo poco arriva Thomas dicendo di essere stato convocato e chiedendo che succede. A quel punto Ridge risponde che Thomas ha creato un problema e che ora sono tutti lì per risolverlo. Thomas chiede di poter dire alcune parole prima di essere rimproverato e dice che è contento che tutti si siano riuniti in questo modo a modo di spiegare a loro tutti insieme quanto avesse, combinato e perché lo ha fatto. Prova a giustificarsi dicendo che non era in sé quando aveva chiamato i servizi di protezione dell'infanzia accusandosi ed usando la voce di Brooke. Brooke confessa che in quel momento era semplicemente arrabbiato perché Brooke aveva minacciato di fare quella chiamata e perché la odiava perché era l'unico ostacolo perché la sua famiglia finalmente si riunisse. Thomas rivela che aveva deciso di far venire i servizi di protezione dell'infanzia per dimostrare quanto fosse bravo come padre e aggiunge che voleva anche i suoi genitori tornassero insieme, anche se questo significava mettere Brooke da parte e mentire per farlo accadere. In seguito, il gruppo è seduto al tavolo della sala conferenze con dei fogli davanti a loro. Thomas sta continuando a parlare ed oce che pensa di aver bisogno di più terapia e dice di aver pensato che quel tipo di trucchi fosse alle spalle. Ammette anche di aver commesso un terribile errore e di essere regredito nel suo percorso, ma crede di stia facendo più passi avanti che indietro. Chiede infine l'opportunità di dimostrare loro che sta diventando un uomo migliore e che è ancora una parte importante del team di progettazione. Dopo quelle parole Eric gli dice di fermarsi e dice che sta andando troppo avanti nel presumere che abbia ancora un posto lì. Eric chiede a Thomas se sa quanto si è deluso da lui, poiché aveva creduto in Thomas e l'aveva invitato nella sua casa per avere la possibilità di rafforzare il rapporto con suo figlio e dice che non riesce nemmeno a guardare in faccia Thomas dopo, ciò che ha fatto. Thomas afferma che può ancora rimediare, ma Eric lo interrompe subito dicendo che è impossibile aggiungendo che è a Brooke a cui Thomas deve chiedere scusa. A quel punto la donna interviene e dice che Thomas ha reso abbondantemente chiaro come si sentisse nei suoi confronti. Immagina che potrebbe dire di essere dispiaciuto davanti a tutti, ma ricorda che non ha mostrato alcun rimorso quando ha scoperto cosa aveva fatto. Dice che si è assicurato che sapesse che avrebbe fatto tutto il possibile per tenere Ridge lontano dalla sua vita. Brooke afferma di non aver voluto le cose in quel modo e, per Ridge, ha cercato di avere una relazione con Thomas e mostrare, nonostante tutto, amore e sostegno. Brooke conclude che a Thomas non importa dei suoi sentimenti né del loro matrimonio, e che Thomas non ha rispetto. Thomas a testa china dice che concorda con lei e sa di non aver rispettato il suo matrimonio e anche è dispiaciuto per aver mentito e aver ferito i suoi sentimenti e quelli di Ridge. Brooke gli chiede quante volte possa dirlo. Lo aveva già detto a lei, a Hope e a Douglas. Gli chiede se è convinto che continueranno a credergli per sempre. Thomas risponde che voleva la sua famiglia insieme. Ma Brooke risponde che non c'è modo di giustificarlo e che nessuna scusa è ormai accettabile e che questa è la resa dei conti. Carter dice che aveva tifato per Thomas e che aveva sperato che il cambiamento di Thomas si sarebbe consolidato quella volta. Dice inoltre che i progetti di Thomas erano fantastici, e Ridge era stato orgoglioso dell'uomo e del padre che Thomas stava diventando. Carter chiede come Thomas abbia potuto farlo e se non aveva pensato al dolore che avrebbe causato a suo padre. Chiede se ci sia qualcosa che devono sapere che potrebbe ricadere su Hope o sulla linea di Hope. Thomas chiede perché dovrebbe aver fatto qualcosa per mettere in pericolo la linea su cui aveva lavorato duramente e aggiunge che Carter sa quanto gli stia a cuore Hope. Thomas chiede poi perché dovrebbe fare qualcosa per ferire Hope o suo figlio. Hope risponde che fino a ora aveva creduto a tutto quello che Thomas aveva detto. Aveva creduto che avrebbero potuto lavorare insieme, fare da genitori insieme e forse essere amici, ma dice che dopo tutto questo avrebbe dovuto ascoltare tutti gli avvertimenti che aveva ricevuto. Gli dice che ha ferito Douglas e non aveva nemmeno pensato a quanto traumatizzante potesse essere per il bambino tutto questo. Thomas prova a chiederle di dargli un'altra possibilità. Ma Hope gli parla sopra e lo ringrazia per il duro lavoro sulla sua linea ma dice anche che Zende è un eccellente stilista ed è cresciuto molto bene. Quindi, crede che la linea andrà benissimo anche senza di lui. Thomas risponde che non è possibile che Hope lo creda davvero e lei dice che lui aveva usato loro figlio per distruggere la felicità di sua madre e gli chiede come potrebbe mai fidarsi di lui di nuovo. Thomas ammette di aver commesso un errore e di essere rimasto condiziosato dal sogno di avere la sua famiglia insieme di nuovo. Thomas dice che sta cercando di dire che sa di aver sbagliato e che è dispiaciuto. Thomas ammette che Eric lo aveva accolto a casa sua e che sa di aver deluso sia lui che Douglas. Poi, voltandosi verso Brooke, Thomas afferma che in realtà non aveva voluto farle del male ed è dispiaciuto di averlo fatto. Thomas dice a Hope che non aveva mai voluto vedere delusione nei suoi occhi, ma sa che, a causa di ciò che aveva fatto, oramai non ha più scusanti. Thomas dice a Ridge che le sue azioni non erano state accettabili. Thomas crede di poter andare avanti, imparare e crescere se Ridge gli darà una possibilità. Ridge, quasi ridendo, si chiede cosa stia chiedendo Thomas e cosa stia cercando di ottenere. Ridge afferma che è stato accanto a Thomas quando nessun altro lo era, che si è incolpato per non essere stato lì quando Thomas era un bambino, che però Thomas lo aveva preso in giro. Thomas risponde che non era stata sua intenzione, ma Ridge urlando gli dice che le intenzioni non contano, che contano le azioni. Ridge si chiede se Thomas potrà mai cambiare o se sia semplicemente fatto così. Ridge afferma che Thomas sta costringendo Ridge ad agire per la famiglia e per l'azienda. Thomas chiede a Ridge di non farlo, ma Ridge dice che tutti sono d'accordo, compresa Steffi e che i suoi giorni alla Forrester Creation sono finiti. Ridge apre la porta dell'ufficio, gli altri si alzano dalle sedie ed escono dall'ufficio in modo solenne. Thomas li guarda andare via e Ridge ha malapena guarda Thomas mentre chiude la porta alle spalle, lasciandolo da solo in ufficio.